Massimo Masi, segretario della Wilka, oggi siete qui per un quinto congresso per parlare dei temi più importanti, ma noi sappiamo che ci sono degli importanti sviluppi per quanto riguarda i contratti lavoro per i dipendenti, ma ancora di più sappiamo che c'è questo problema dei manager che guadagnano un sacco di soldi rispetto a quello che è uno stipendio di un normale dipendente. Noi abbiamo fatto un elaborato, è uno studio che abbiamo pubblicato e è stato ripreso da tantissimi giornali e tantissime televisioni. Il top management delle banche guadagna 62 volte, ripeto, 62 volte lo stipendio di un lavoratore. In pratica loro guadagnano quanto noi prendiamo circa in 32 giorni, più o meno. Questo è il dato fondamentale, è un problema forte perché questo dimostra che c'è una sperequazione fra i loro stipendi e quello che prendono i dipendenti. Ma poi c'è un altro problema che veramente è forte, che non c'è un ricambio nel top management delle banche, sono sempre quelli, sono sempre i soliti e soprattutto hanno sbagliato la politica. Oggi alle banche non rimproveriamo di aver sbagliato le politiche, soprattutto verso il sud, verso la Sicilia, verso alcune parti del nostro paese. Non si fanno più investimenti, non si danno più mutui, non si danno più risorse alle PMI e alle piccole industrie. Noi chiediamo un paio di cose. La prima, che ci sia un livellamento degli stipendi perché è troppo rispetto alla media, ma che ci sia anche un nuovo contratto nazionale di lavoro, una incidenza del lavoro, del credito verso il paese, perché rilancia il paese. Se non ci sono le banche a rilanciare il nostro paese, chi mai può pensare di rilanciare questa nostra Italia? Ecco la sfida che noi lanciamo alle controparti e chiediamo alle controparti una banca nuova, una banca dedicata non solo, non più alla finanza e affari, alla finanza predatore come si chiama, ma soltanto una banca che va ad aiutare i cittadini, va ad aiutare la popolazione, va ad aiutare l'occupazione, cosa che ce ne è bisogno tantissimo nel nostro paese. Nella lunga esperienza della sua vita è mai capitato un manager che ha bisogno del sindacato per fare una battaglia, un'avvertenza perché magari lo stipendio gli sembra basso? Ma non lo so, però adesso anche per loro in intesa 170 dirigenti sono stati licenziati. il problema io non ce l'ho con i dirigenti, io ce l'ho soltanto con quelli che prendono questi soldi, sono quelli che naturalmente condizionano anche la vita dei lavoratori, sono quelli che fanno le pressioni commerciali per vendere prodotti, per esempio ad anziani le polizze vita, prodotti che non sono validi dal punto di vista finanziario. E' questa l'etica che noi dobbiamo cambiare, la parola etica deve tornare nel nostro paese ma deve tornare nelle banche. I cittadini devono essere fiduciosi quando vengono in banca a portare i loro investimenti e a chiedere soldi per un mutuo per acquistare la casa. Oggi invece questa fiducia è calata e questo credo sia uno dei problemi che noi dobbiamo affrontare ma purtroppo siamo abbastanza soli in questo momento. Cosa accade in Sicilia e soprattutto cosa state facendo per i vostri dipendenti siciliani? Ma intanto nella Sicilia c'è un problema atavico che è quello che ha perso purtroppo per responsabilità della politica, per responsabilità delle banche anche locali, una banca locale. Oggi non esiste più una banca siciliana così caratterizzata ma ci sono banche del nord che hanno conquistato. In più c'è un altro problema che le banche stanno chiudendo sportelli e anche qui è un errore clamoroso perché è vero che al nord c'è un problema di andare in banca il più rapidamente possibile. Al sud la banca è diventata anche un centro di raccolta sociale, di utilizzo della banca come luogo di ritrovo, come luogo di portare anche propria esperienza. Oggi le banche guardano soltanto i costi quindi siccome la filiale costa, siccome ci sono le IT, le innovazioni tecnologiche, si chiudono le filiali, dimenticando che così cosa si farà? Si privilegieranno le finanziarie, si privilegieranno coloro che faranno usura perché naturalmente ci sarà bisogno sempre di quel rapporto sul territorio fra cittadino e banca. Oggi i nostri tom manager su queste cose non le capiscono. Ecco perché io rilancio da qua e rilanciamo da qua una banca siciliana, una banca che sia sul territorio, una banca che vada verso la regione Sicilia e che dia un maggiore sviluppo a questa regione. Lei da sindacalista naturalmente sta facendo degli appelli alle istituzioni e alla politica tutta ma in questo momento sappiamo che anche Renzi ha lanciato dei monito contro i sindacati perché dico che frenano lo sviluppo, insomma fanno meno bene il loro mestiere rispetto a come si faceva un tempo. Io a Renzi ho risposto ieri con un comunicato a stampa. Dicendoli caro Presidente, tu dici che noi dobbiamo occuparci della disoccupazione, io porto i dati del nostro settore. Noi con i soldi dei lavoratori abbiamo fatto un fondo per l'occupazione, abbiamo fatto in questi ultimi mesi 900 assunzioni a tempo indeterminato e soprattutto anche per il Sud perché c'è in questo accordo che i lavoratori assunti nel Sud hanno un maggiore contributo per quanto riguarda le loro assunzioni, quindi i contributi che sono a carico delle aziende. Noi abbiamo fatto questo. Io delle grandi occupazioni da parte del governo Renzi non ho ancora visto. Credo che questo progetto porti solamente maggiore precarietà nei lavoratori. Io l'esempio l'ho dato. La Wilka sono anni che pubblica sul proprio sito il proprio bilancio, ma non solo il proprio bilancio, il bilancio di tutte le proprie strutture. E quindi secondo me le proposte di Renzi sono un po' dotate. Poi è chiaro che non tutti fanno quella casa di vetro che io ho voluto portare nel mio sindacato, ma credo che questa sia una lezione anche da esportare verso l'altro. Quindi il vero messaggio fatto al Presidente del Consiglio è che non tutte le sigle sono uguali. Non tutte le sigle sono uguali e bisogna trovare differenza. Come non tutti i politici sono uguali, non tutte le sigle sono uguali. E quindi c'è chi ti tiene di più la trasparenza, l'etica. Io sono uno di quelli che tiene, siccome sono uno di quelli che sono molto critico verso gli altri, la prima critica, se voglio essere critico verso gli altri, lo devo essere anche verso me stesso e se chiedo etica agli altri lo devo chiedere anche a me stesso. Grazie a tutti.